Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel. Anche quest'oggi diamo uno sguardo alle principali notizie riportate dai giornali nazionali e locali, soffermandoci ovviamente su quelle che riguardano l'Udinese. Cominciamo subito dal messaggero Veneto che in prima pagina dedica spazio al nuovo stadio Friuli. Lo stadio C'è, ora manca soltanto l'Udinese. L'obiettivo della società friulana è quello di raggiungere almeno 18.000 abbonamenti, vale a dire tutti i posti a sedere occupati, meno la curva sud che sarà ultimata a metà dicembre. E' questo appunto l'obiettivo che l'Udinese si propone per il nuovo stadio Friuli. I lavori, come si può vedere anche da questa foto aerea, sono a buon punto. Curva e distinti appunto sono le due porzioni del nuovo stadio Friuli che saranno pronte per il nuovo campionato già a partire d'agosto e poi l'ultima parte è quella della curva sud. Ma andiamo proprio ad approfondire quello che è il nuovo stadio. Ecco il Friuli, come riporta il messaggero Veneto. Obiettivo Udinese 18.000 abbonati, la società vuole riempire tutti i posti pronti per agosto, ma serve una mano ovviamente anche da parte del calcio mercato per l'inizio del campionato. A fine agosto saranno agibili la curva nord e i distinti, i posti saranno 18.000 per la sud. Si dovrà attendere la fine di dicembre, così i posti saliranno a 25.000. Intanto in questa fotografia si vedono le poltroncine colorate che in questi giorni sono state sistemate nei settori curva nord e distinti del nuovo stadio Friuli. Insomma uno stadio multicolor, appunto grazie proprio a tutti questi colori, tra l'arancione, il verde, il giallo, il grigio e poi ancora altri colori che devono essere posizionati che daranno grande luminosità e soprattutto colore a questo nuovo impianto all'avanguardia. Ma vediamolo meglio nella fotografia appunto del messaggero Veneto, questa presa ovviamente dalla tribuna, quello che è il proseguio dei lavori che è molto spedito perché vogliono appunto portarlo in campo, o meglio portare i tifosi in campo perché si vede come la curva nord e i distinti si siano avvicinati notevolmente al campo di gioco proprio per permettere ai tifosi di assistere ad uno spettacolo unico in uno stadio all'avanguardia. Questo è lo stadio che sta crescendo, però viene riportata anche dal messaggero Veneto una storia, la storia dello stadio Friuli e le tappe di un mito. Quasi 40 anni di pallone dal settembre del 1976, Udinese Seregno con questa partita venne inaugurata, venne inaugurato mentre Friuli veniva devastato dal terremoto, lo stadio che ospita le partite dell'Udinese, vediamo appunto già presente, l'unica parte presente era quella dell'arco dei Rizzi. E poi lo stadio Friuli che anche i ragazzi ricordano è del maggio 2007, era già l'epoca di Natale, prima c'erano state quelle di Zico e di Birof, quindi dal 2007 fino a ieri, fino al 22 giugno, dove appunto si vede ancora la mancanza della curva sud, di quello che è il nuovo stadio Friuli 2.0, l'impianto appunto che avrà 25 mila posti, tutti coperti. Ma c'è bisogno quindi della campagna abbonamenti, c'è bisogno di popolarlo questo nuovo gioiello bianco-nero, prezzi popolari, spazio alle famiglie, entro dieci giorni la presentazione, prelazione garantita ai più fedeli. Quindi la campagna abbonamenti 2015-2016 partirà da un presupposto irrinunciabile, ovvero i prezzi popolari. Saranno anzi popolarissimi, assicura il direttore amministrativo della società bianco-nero Alberto Rigotto, la campagna abbonamenti sarà presentata in città entro una decina di giorni, e la filosofia utilizzata però è chiara, i prezzi dovranno essere abbordabili. Andiamo a vedere altre fotografie dell'impianto, appunto ancora una volta i nuovi seggiolini, che ormai stanno punteggiando i settori ricostruiti, questa invece è la zona della curva sud, in particolare proprio i pilastri della curva sud, nel cantiere dei Rizzi. Illuminazione, c'è già l'omologazione, quindi anche un altro aspetto importante, le prove sono durate per ore, ma l'ha detto della Lega Calcio nei giorni scorsi, ha dato disco verde, la nuova illuminazione dello stadio Friuli è stata omologata per le partite di calcio dei professionisti. Il centinaio di fari piazzati sul tetto del settore Tribuna Distinte è già pronto a illuminare le partite della squadra di Colantuono, a partire dalla prima gara eliminatoria di Coppa Italia, che si giocherà regolarmente il giorno di Ferragosto. In quell'occasione sarà aperta al pubblico solo la Tribuna Centrale. Due settimane più tardi toccherà i restanti settori, di fatto gli operai dovranno piazzare il muretto in Plexigas, che separa il terreno di gioco dagli spalti, cancelli di sicurezza per raggiungere dagli spalti il terreno di gioco, e le poltroncine dall'effetto cromatico bizzarro. Non ci sarà, come molti tifosi chiedono, la classica scritta, realizzata proprio colorando le poltroncine dei distinti, con il nome della squadra o con uno slogan che interessa la stessa. I tifosi entreranno allo stadio dagli accessi all'altezza della strada attraverso i vomitori, una volta superati i tornelli, poi o saliranno al secondo anello o scenderanno al secondo. Avranno a disposizione un'ampia area per bar e ristorazione, una zona hospitality caratterizzata da colori vivaci e controsoffittatore alle pareti. Questo per dare un po' anche di indicazioni logistiche in merito a quelle che saranno le entrate e l'illuminazione dello stadio Friuli. 25 mila, appunto, diamo un po' di numeri, di nuovo 25 mila i posti che alla fine dell'anno avrà lo stadio Friuli, una volta completato. 22 invece sono i milioni di euro dell'appalto per questa prima tranche di opere di ristrutturazione, una parte delle quali finanziate anche dal credito sportivo. E 39 sono gli anni passati dall'inaugurazione dello stadio Friuli, avvenuta a fine settembre 1976 con la partita di Serie C Cudinese-Seregno. E dal cantiere dello stadio Friuli andiamo a vedere anche nel trafiletto, oltre ovviamente all'impianto e all'illuminazione, c'è l'ok anche con le lampade, il terreno di gioco, erba ok con le lampade. Rifatto la scorsa estate, il terreno di gioco con tanto di serpentine per il riscaldamento ha superato anche lui l'esame. L'erba è cresciuta, rigogliosa, eccezione della parte coperta dall'ombra dell'arco della tribuna. C'è la soluzione, comunque per evitare l'effetto San Siro, la notte per tutto l'inverno quella zona di campo è stata illuminata dalle lampade. 40 anni a non sentirli, l'arco resta il simbolo del nuovo stadio, l'arco che sorregge la copertura della tribuna centrale lungo 200 metri, alto 31, continuerà ad essere il simbolo dell'impianto dei Rizzi. Ed ora andiamo a vedere anche però l'aspetto altrettanto importante del calcio mercato perché l'udinese pesca in Sud America, Pozzo getta l'amo per Samir e Vangioni, pressing sul brasiliano, piace anche l'esterno argentino, l'udinese e il Napoli intanto si avvicinano nell'affare Allan. Adnan ha parlato, ha detto l'udinese, la mia nuova squadra, il giocatore iracheno Ali Adnan, neoquist dell'udinese, ha postato sulla sua pagina Facebook un commento riguardo la sua nuova avventura in Bianconero, in particolare su Di Natale. Il turco, in turco il calciatore nazionale iracheno, ha scritto mi piace molto il calcio in Turchia, i miei compagni di squadra, ma mi piace molto anche la mia nuova squadra, l'udinese, dove c'è un campione come Di Natale, un post che ha visto immediati i commenti di in bocca al lupo, scritti in lingua araba, ma anche quello di un tifoso italiano che ha confessato di essere un suo fan da almeno due anni. Questo per quanto riguarda l'udinese, ma poi si parla anche del mercato degli altri italiani, in particolare della Fiorentina, perché c'è da capire quale sarà il futuro di Salah. Inter piglia tutto, è in pole position per Salah, Mancini avrà anche Felipe Melo, in uscita Hernanes e Guarin su Saponara, è sfida intanto Juve-Napoli. Il personaggio in taglio basso del mestre, lo staccanovista friulano per l'Italia, da oggi difenderà la porta degli azzurri del beach soccer ai giochi europei di Baku. C'è quindi un'importante componente friulana nella nazionale di beach soccer che inizia oggi la sua avventura nei giochi europei in Azerbaijan. Le gare di ieri invece, Pugilato e Scherma, pioggia di medaglie, prende il via così il programma di Scherma ai giochi europei, Baku 2015, e l'Italia conquista subito due medaglie. Sono quelle di bronzo che arrivano al collo di Luigi Miracco e di Alberto Pellegrini al termine della prova individuale di sciabola maschile. Cinque partite truccate, Catania nella bufera, continua lo scandalo, sette arresti, tra i quali il numero uno degli etnei, pure la procura federale indaga, altra estate calda per il pallone, la serie B trema, campionati di calcio a rischio. Nella fotografia il presidente del Catania, Pulvirenti, che è stato arrestato per aver comprato gare per non retrocedere. I calciatori del Catania sono troppo scarsi, se non ci pensavamo noi per queste cinque partite. Eravamo retrocessi veramente le telefonate, queste tra indagati registrati dalla polizia, svelano retroscena dell'arresto del presidente del Catania, Antonio Pulvirenti, di altri dirigenti accusati di aver comprato gare per non retrocedere avrebbero ottenuto risultato dato che la squadra etnea dal 2 aprile al 2 maggio centra cinque vittorie e due in trasferta per le indagini si dà più da fare. Il presidente ormai lo ha inquadrato il campionato di serie B, lo sentono dire i poliziotti, l'anno prossimo arrivo primo. Queste appunto le telefonate che hanno inchiodato Pulvirenti. L'Under 21 di Di Biagio Italia batti l'Inghilterra e poi spera pesa come un macigno, il penalty trasformato da telina attaccante del Bordeaux e della nazionale svedese Under 21. A quattro minuti dal termine dell'esordio shock dell'Italia di Gigi Di Biagio la fase finale del campionato europeo di calcio Under 21 in corsa in Repubblica Ceca. La gara che sarà trasmessa alle 20.45 non avrà tra i protagonisti il centrocampista Sturaro che deve scontare ancora due giornate di squalifica. Il Citi Di Biagio, la vigilia ha sottolineato che se giochiamo come con il Portogallo abbiamo tante possibilità di battere l'Inghilterra. In taglio basso il basket. Lavrinovic oggi salta la sfida a Scudetto. Reggio Emilia ad un passo dal titolo deve farne a meno a Sassari. Come previsto quindi non ce la fa giocare oggi alle 20.45. Gara a sei di finale Scudetto di basket che può essere già decisiva per la sua squadra in vantaggio 3-2 nella serie al meglio di sette partite. Tornando invece a parlare del calcio c'è un articolo che parla dell'arresto del padre di Cavani che fu morto in auto quindi brutte notizie per Edinson Cavani perché il papà del Matador è stato arrestato assalto in Uruguay in quanto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita un 19enne. Cavani Senior sarebbe risultato positivo all'alcol test. Papà Cavani si trovava al volante di un SUV che ha avuto un impatto tremendo con una moto guidata da Francisco Nicolás Rodríguez. Il ragazzo è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale Luis Cavani è stato arrestato mentre il figlio in ritiro con l'Uruguay in vista dei quarti di finale di Coppa America contro il Cile starebbe meditando la clamorosa decisione di rientrare in patria anche se la madre del giocatore assicura che ci sarà in campo. Lasciamo ora il messaggero Veneto e diamo spazio alle principali notizie riportate dal Gazzettino. quest'oggi sempre dedicandoci alle notizie sportive allora andiamo subito a vedere cosa racconta il Gazzettino sull'intrigo relativo a Allan che scalda il mercato perché il Napoli è favorito ma deve mollare Zapata 15 milioni senza saldi offerto anche il difensore Britos questo è per quanto riguarda la parte di mercato in uscita che vede appunto Allan vicino alla nuova esperienza con la maglia del Napoli anche qui però le scelte la verità è che il mediano era e rimane sul mercato e lui l'elemento più pregiato del gruppo ha una valutazione si ricorda di 15 milioni di euro i pozzo sono nella condizione di non concedere sconti potenziali acquirenti potendo blindare qualsiasi elemento e anche qui si ricorda quello che è l'impianto delle nuove poltroncine allo stadio Friuli e poi le altre trattative le trattative piace il Parmense e Fedal Zelinski resta all'Empoli anche per Zapata si apre un'asta la nemica numero uno del mercato bianconero il colombiano del Napoli piace e non da oggi ma su di lui c'è il rischio che si scateni una corsa a quattro dalla quale l'udinese potrebbe uscire sconfitta l'interesse dei bianconeri per l'attaccante non è recente ma non sempre sul mercato vale la regola del chi prima arriva meglio alloggia c'è un'altra discriminante che vale ovviamente di più la potenza economica legata alla carta europea si riparla anche del caso Parma perché il Parma con ogni probabilità riporterà dai dilettanti ecco allora che si apre definitivamente il supermercato con l'udinese pronta ad approfittarne l'obiettivo numero uno resta il difensore Fedal che i bianconeri seguono da tempo ma il marocchino di passaporto spagnolo è corteggiato anche dal Frosinone sempre da Parma ma poi potrebbe arrivare l'attaccante Massimo Coda più tiepido l'interesse invece per il difensore Andrea Coda lasciamo il gazzettino adesso e diamo uno sguardo alle principali notizie dei giornali nazionali cominciando dalla gazzetta dello sport perché qui subito si pone l'attenzione sulle gare comprate dal Catania il calcio sotto un treno sette gli arresti intercettazioni scottanti giocatori corrotti in codice erano i treni siciliani sotto inchiesta per le partite con Varese Trapani, Latina, Ternana e Livorno ai domiciliari il presidente Polvirenti altri sei campionati di B e Lega Pro rischiano di slittare in taglio alto il sì o meglio yes detto da Pirlo appunto per la nuova esperienza New York City Andrea lascia l'Italia il suo genio al New York City dal primo luglio l'avventura americana subito la sfida giovinco anche Tevez saluta la Juve va al Boca la chiave è il giovane va da là il dramma Cavani omicidio stradale padre in carcere gioca oggi con il Cile questo è l'interrogativo appunto in merito alla presenza o meno del Matador nella finale con nel primo quarto di finale con l'Uruguay europeo alle 20.45 Under 21 ultima chiamata ma battere l'Inghilterra potrebbe non bastare alla guida dal 2012 invece Capello Russia è divorzio al CT spettano 22 milioni Slatsky possibile sostituto tornando in Italia Salah in bilico l'Inter pronta al Blitz scatto dei nerazzurri per il trequartista se non ci sarà accordo con la Fiorentina l'egiziano deve decidere se restare con i Viola l'intervista a Matri che parla al Milan e dice sono tornato ora punta su di me le altre strategie destro va al Monaco la Roma fa cassa e to ciao Samp saluta quindi il presidente Ferrero e i compagni il rompipallone di Genegnocchi Blatter apre la sua successione Pulvirenti sarebbe perfetto ma andiamo quindi proprio ad approfondire la situazione di Pulvirenti e non solo Catania shock arrestato il presidente si è comprato la salvezza è successo tutto nelle ultime giornate l'inchiesta di Catania che punta l'attenzione sul film di quella che è la rimontona siciliana operazione treni del gol ai domiciliari anche la di Cosentino l'ex DS degli carri e altri 4 intercettazioni schiaccianti 5 partite sotto inchiesta ignorato l'allarme lanciato da Federbet in Spagna invece scattano le inchieste c'è il retroscena di anche quelle che sono le differenze un fenomeno trasnazionale come dimostra nei rapporti presentati a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo e qui il paradosso è bello grande Baranque è preso molto sul serio fuori dall'Italia la sua associazione ha stretto un accordo per tenere sotto controllo in Spagna la Liga e opera per conto di diverse società ma le istituzioni nostrane hanno sempre cercato di minimizzare le sue denunce andiamo a vedere anche le reazioni perché ovviamente tra FIGC Coni e Lega di Serie B si scatena lo scandalo Tavecchio dice serve l'anagrafe sui reati ma Labgo risponde vergogna il numero uno federale non mi situazioni si ripetono facciamo un passo avanti per identificare chi delinque le parole del presidente del Coni si commenta tutto da solo imbarazzante non c'è mai limite al peggio e poi le considerazioni di Andrea Bodi presidente della Lega B non esiste invalidare il campionato di B la responsabilità è individuale indagati in 19 questa è l'inchiesta 7 di loro ai domiciliari quindi sono 19 finora gli indagati di treni del gol 7 dei quali si trovano da ieri mattina gli arresti domiciliari 12 indagati a piede libero tra gli arrestati ai domiciliari troviamo appunto Antonino Pulvirenti presidente del Catania e poi anche Paolo Cosentino Addie Daniele Dellicarri 44 anni ex DS degli etnei e poi altri allenatori responsabili andiamo però a vedere appunto il film riportato dalla Gazzetta che parla di di questa inchiesta che soprattutto ha puntato l'attenzione sulle ultime giornate in particolare quelle giocate dal 2 aprile al 2 maggio e quindi dalla 34esima giornata in poi la vittoria contro il Varese la vittoria contro il Trapani contro il Latina contro la Ternana e il pareggio nella 39esima giornata contro il Livorno queste appunto sono le partite in questione che hanno fatto appunto scatenare l'inchiesta e sulle quali si è poi si è poi andato ad approfondire questa situazione ma lasciamo quanto sta accadendo al Catania la serie B o meglio andiamo a vedere ancora ad approfondire ancora questo aspetto perché ci sono le intercettazioni quel treno delle 33 e San Michele senza di noi erano retrocessi eccole qui Pulvirenti parla con degli carri e poi esclama questa B ormai l'ho capita l'anno prossimo arrivo primo e l'agente FIFA Arbotti dice l'azienda era spacciata queste alcune delle appunto intercettazioni degli stralci di conversazione la piccola parte in mano agli inquirenti bastano però per tracciare i contorni nelle accuse intorno al Catania agli arresti domiciliari come dicevamo il presidente del Catania dagli aerei al calcio il volo di Polvirenti finito nella polvere l'ascesa e la caduta del re dei supermarket tra il sogno Winjet e gli otto anni di fila in serie A il patron si difende sono strano i fatti saprò dimostrare che non c'entro nulla gli altri indagati Lomonaco e il DG che litigò con Mu e la promessa che gli ispirava a Nesta quindi tra i 19 indagati il nome più celebre è quello di Pietro Lomonaco per la lunga carriera a livello dirigenziale per il botte risposta con José Mourinho nel 2008 l'allora tecnico dell'Inter dopo una partita dei Nerazzurri a Catania accusò di simulazione un giocatore avversario Giriamo pagina sempre all'interno della gazzetta vediamo adesso le conseguenze sportive di questo scandalo Palazzi al lavoro e ora i campionati possono slittare il Catania a rischio alla Lega Pro per responsabilità diretta nell'illecito un altro posto libero in Serie B quindi bisognerà capire quelle che saranno le conseguenze sportive proprio dopo queste intercettazioni e questo scandalo le altre inchieste Cremona in arrivo la richiesta su Conte Catanzaro va avanti quindi non solo Catania ci sono altri due fronti aperti nella lotta alla Combina e Cremona e Catanzaro sono fronti destinati a far parecchio rumore a partire dalle eminenti decisioni di Roberto Di Martino titolare delle indagini sul calcio scommesse e quindi non solo Catania interessata dallo scandalo ma anche come abbiamo visto Cremona e Catanzaro lasciamo però questo argomento per parlare del calciomercato in particolare di quello già tracciato della Juventus in uscita Pirlo che ha detto yes saluta la Juve e va a New York può già esordire contro Giovinco e ovviamente in queste due pagine si va a ripercorrere e dare l'addio per il momento ovviamente al calcio italiano di Andrea Pirlo il bilancio con i club è in nazionale due champions e il mondiale con l'Italia il playmaker che visse due volte da talento a uomo copertina il regista ha deciso di anticipare l'addio al calcio italiano guadagnerà 5 milioni di euro e potrebbe essere presentato già venerdì gli altri affari invece riguardano Tevez Tevez Bocca la chiave è vada là con gli argentini si tratta sulle modalità di pagamento Berardi bianconero ma soltanto nel 2016 questo per quanto riguarda il mercato in uscita dei bianconeri lasciamo la gazzetta diamo uno sguardo alla prima pagina del corriere dello sport basta con questo schifo un'altra giornata nera 7 arresti il Catania comprava le partite la procura non ha dubbi truccate almeno 5 gare di serie B per salvarsi coinvolti giocatori di Varese Trapani Ternana Livorno e Latina sospetti anche sull'Avellino in taglio alto centrocampo ora il Milan va su Matuidi poi Saponara testa a testa Juve Napoli e Roma destro al Monaco per 15 milioni in taglio basso gli altri titoli europei azzurrini appese ad un filo l'Under 21 si gioca l'onore e le Olimpiadi battere l'Inghilterra può non bastare muore un motociclista Papacavani in galera Edison non lascia la Coppa America drammatico incidente in Uruguay per il papà del Matador parliamo anche di Formula 1 Fuoco debutta sulla Ferrari con un botto e poi il basket stasera la gara 6 Scudetto ultimo tram per Sassari questa è la prima del Corriere dello Sport ma in chiusura diamo uno sguardo anche al Tutto Sport che apre con gli intrecci tra Juve e Inter per Salah e Quadrado Marotta a caccia dei fantasisti che piacciono anche a Mancini oggi agli agenti dell'Egiziano parleranno con la Fiorentina ma incontreranno anche i Bianconeri e i Nerazzurri domani toccherà il procuratore del Colombiano in taglio alto Gagliani sonda il fratello del bomber argentino Higuain che non chiude la porta alla clamorosa operazione Milan quindi è l'ora di Higuain riportata anche qui ovviamente la notizia delle intercettazioni Catania Shock arrestato Pulvirenti per partite truccate e poi in taglio basso nei box Toro Okaka spara alto i turchi su Glick questo è il mercato del Torino e poi l'Under 21 cerca un'euro impresa con l'Inghilterra e Tifa a Portogallo alle 20.45 la sfida e poi la Coppa America ai quarti di finale Vidal vuole esaltarsi con il Cile nell'Uruguay il dramma Cavani e chiudiamo con un fondo degli USA offerta a Qatar vogliamo comprare la Formula 1 questo appunto per quanto riguarda la Formula 1 con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa sportiva io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a rimanere sempre qui su Udinese Channel grazie a tutti e buon prossimo momento di giornata